After è il festival del futuro digitale e il futuro digitale non è soltanto una questione di macchine, è una questione di persone e le persone sono le cose che sanno e che sanno fare, che sanno raccontare e allora siamo qui come regione per dire quanta formazione, quanta scuola, quanta università siamo in grado di mettere in campo come Emilia Romagna non solo per noi ma per tutto il paese e per tutta Europa. Futuro digitale sono le persone e le persone sono persone che imparano e imparano cose che siano utili a tutta la nostra comunità. Grazie a tutti.